I carabinieri della compagnia di Battipaglia, nel corso di un servizio di controllo effettuato nei pressi della zona industriale, hanno fermato tre individui, tutti e tre italiani e già noti alle forze dell'ordine. Uno di loro, originario di Monte Corvino Rovella, classe 1979, è stato arrestato poiché evaso nonostante fosse ristretto ai domiciliari. Questa mattina l'udienza di convalida. Per gli altri due invece una semplice segnalazione. Al momento, secondo quanto accertato dai carabinieri, non risulta vi siano stati furti nella zona industriale.